Se oggi si andasse al voto per le politiche, la Lega di Salvini si confermerebbe il primo partito del Paese con il 33% dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle scenderebbe al 22,8%. È il dato che emerge dal barometro politico di marzo, il sondaggio dell'Istituto Demopolis diretto da Pietro Vento. Oltre alla conferma del partito di Salvini, se adesso si votasse alla Camera, crescerebbe il centrosinistra. Il PD, infatti, si avvicina al Movimento Grillino e torna a superare la soglia del 20%, guadagnando poco più di due punti dopo le primarie. Rispetto al barometro politico di febbraio, i pentastellati scendono di quasi tre punti percentuali, dal 25,2% al 22,8%. Dati statistici alla mano, sembra che quello che perde il Movimento 5 Stelle lo guadagni il Partito Democratico, assottigliando lo scarto tra i due partiti. Gli azzurri di Forza Italia oggi raggiungerebbero quota 8,8% e Fratelli d'Italia il 3,6%. Sotto la soglia del 3% le altre liste minori. Demopolis ha misurato anche l'apprezzamento dei cittadini sull'attuale esecutivo Movimento 5 Stelle-Lega, a oltre nove mesi dal suo insegnamento. Le recenti divergenze tra Di Maio e Salvini sembrerebbero non pesare sull'opinione degli italiani, tanto che la maggioranza assoluta, il 53%, mantiene un giudizio complessivamente positivo sul governo Conte. Parere negativo arriva invece dal 38% degli italiani, mentre il restante 9% non saprebbe esprimersi al riguardo. Il sondaggio di Demopolis è stato effettuato su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell'universo della popolazione italiana maggiorenne.